Salve a tutti, cari amici. Sono sempre io, ricercatore Emiliano Babilonia. Oggi abbiamo una nuova intervista testimonianza di un ragazzo di Roma che viene attaccato sempre con queste armi ad energetirette, lavaggi del cervello, torture che praticamente gli hanno distrutto la vita e sta cercando di recuperare irrecuperabile. Questo ragazzo è venuto varie volte alle nostre conferenze, alle nostre riunioni e praticamente le persone che vengono attaccate di solito con queste armi e con queste tecnologie da queste agenzie deviate sono sempre brave persone, persone studiose, persone intelligenti perché ovviamente vogliono studiare dai nostri ragionamenti determinati tipi di soluzioni. Ma purtroppo molte vittime che vengono attaccate con queste armi nel passare del tempo non riescono più a capire qual è la realtà dalla finzione della manipolazione che viene effettuata nel loro cervello. Adesso lascio la parola a questo ragazzo di Roma che vi spiegherà tutti gli abusi, le torture e tutti gli attacchi che vi fanno con queste armi psicotroniche. Buongiorno a tutti. Praticamente tutto ha iniziato da una frequentazione che facevo con uno psichiatra delle sedute, praticamente mi aveva dato degli ansiolitici da prendere per curare dell'ansia. Solamente che io a un certo punto mi sono accorto che praticamente tutto quello che veniva riportato in queste sedute lo sentivo praticamente da delle persone nella saletta dove d'aspetto, dove andavo da lui e anche per strada. E niente, praticamente dopo ho iniziato a non andarci più e ho iniziato a sentire degli acufeni, degli acufeni, bruciori sul corpo e la mattina mi svegliavo con brividi di freddo e caldo e poi fino ad una sera che ho iniziato a sentire delle voci, una certa Mirella che praticamente mi parlava e io ero rimasto un po' sconcertato al libido perché inizialmente credevo che fossi diventato pazzo, non capivo queste voci da dove venivano. E poi da lì ho fatto una visita neurologica e praticamente mi era stato riflettato che era tutto a posto, non avevo niente. Ho fatto anche un elettrocardiogramma che praticamente risultavano dei picchi sballati e questo dottore non riusciva a capire perché c'erano questi picchi così sballati e mi aveva detto anche che non dipendeva assolutamente dal mio cuore perché è sano. Poi da lì è andata sempre peggio perché ho iniziato a sentire sempre queste voci che mi parlavano, mi dicevano, mi spingevano a commettere reati, praticamente mi hanno portato a una dipendenza sessuale sfrenata e mi incitavano all'abuso di sostanze stupefacenti e diciamo praticamente mi hanno incominciato a parlare H24 in testa. Addirittura certe volte anticipavano quello che avrei fatto oppure mi dicevano certe informazioni su determinate persone. Poi praticamente sempre tramite questo, come possiamo dire, sempre di persone statali c'è stato un altro episodio che praticamente ho subito un tentato omicidio da parte di una persona tramite la mia ex assistente sociale. Io ho denunciato questa persona perché ero finito in ospedale con un referto medico di più di 28 giorni e poi sono venuto praticamente a scoprire che questa persona aveva dei contatti con delle persone, con delle forze armate e sono venuto a scoprire sempre nel frattempo che anche quello psichiatra che io andavo, il padre lavorava per la CIA, sempre nel reparto psichiatria. Allora sulla denuncia ho portato il referto medico e tutto e praticamente che cosa è successo? Era passato un anno e praticamente ci doveva essere il processo. Io sono stato contattato e minacciato di morte se non avessi ritirato immediatamente la denuncia. Da lì poi sono iniziato a accadere cose strane perché quando uscivo di casa si affiancavano quattro coppie, ho contato, che praticamente si scambiavano tra di loro e mi seguivano dentro ai bar puntandomi il dito dicendo è lui, è lui, è lui e praticamente non sono potuto uscire per mesi da casa perché sembrava un film di fantascienza e poi venivo continuamente fermato dalle forze dell'ordine, poi ho dovuto staccare addirittura wifi da casa perché non riuscivo più a dormire, se mi avvicinavo al wifi avevo formicoli in tutto il corpo, mal di testa, giramenti, nausea, vomito, ho dovuto anche togliere tutta la tecnologia da casa perché non riuscivo più a dormire e le voci venivano amplificate con il wifi e con tutta l'attrezzatura elettronica. Eh sì, perché praticamente te hai detto una cosa giusta, dalle analisi che ho fatto io molte volte all'interno di casa delle vittime abbiamo riscontrato che i campi elettromagnetici aumentano del 300% perché utilizzano le armi ad energia diretta ad onde convogliate utilizzano i campi elettromagnetici, le frequenze celebrali sono in corrente continua, allora loro utilizzando l'elettromagnetismo della corrente alternata che praticamente viene amplificato attraverso questa arma interagisce con i nostri centi nervosi, è come se ci creano un elettroshock continuo all'interno del cervello attraverso la modulazione di frequenza delle vibrazioni di queste radiazioni ci fanno sentire le famigerate voci una volta che noi sentiamo le voci noi andiamo dal dottore e andiamo a denunciare e immediatamente perdiamo la credibilità perché loro dicono quello che voi sentite è una patologia vostra, schizofrenia, bipolarismo oppure siamo elettrosensibili, ma in realtà non è così, questi sono proprio attacchi fisici e psicologici effettuati da agenzie deviate sovrastituzionali che operano attraverso mafia militare o terroristi militari che attestano e collaudano queste tecnologie su di noi, infatti molte vittime mi stanno dicendo che vengono pilotati o indotti a fare uso di alcol, a fumare le sigarette, a fare uso di sostanze stupefacenti addirittura li inducono a prendere farmaci e psicofarmaci in continuazione e tutto questo crea un disturbo fortissimo alla vittima perché la vittima non comincia più a capire qual è la realtà o la finzione, qual è la reale dipendenza o quali sono le reali sue loro frequenze fisiologiche e praticamente molte volte crollano in una depressione oppure vengono rinchiusi all'interno degli ospedali. Certo, e poi nel frattempo erano capitate anche altri episodi a mio parere anche molto gravi, ad esempio stavo con una ragazza e praticamente un giorno stava con un'altra amica sua, mi piombano sulla porta di casa e praticamente mi rompono entrando la porta, di casa e nel frattempo i vicini di casa avevano chiamato le forze dell'ordine e arrivano le forze dell'ordine e praticamente mi mettono in disparte e praticamente mi trattano come se io avessi fatto qualcosa, io ho detto guardate, io ho detto che queste mi hanno sfasciato la porta di casa, sono entrate, non ci stanno tanto con la testa, io ho detto ma non avete visto quello che hanno fatto e praticamente mi hanno detto no, no, dice tu devi stare qui, non ti devi muovere, lei si deve riprendere le sue cose, praticamente io avevo il borsello sul tavolo con il mio portafoglio, praticamente gli hanno lasciato prendere il borsello mio con i soldi miei, con il documento dentro che praticamente usciva di fuori, io gli ho detto ma guardate scusate, io ho detto quello è il borsello mio, quelli sono i soldi miei, e praticamente sembrava tutto come se fosse un film, una cosa organizzata, tant'è vero che poi sono stato denunciato per tantissimi reati e quest'anno c'è stato il processo e sono stato scagionato da tutto, il giudice ha archiviato tutto quanto e praticamente è morta tutta lì, ma secondo me era tutta una cosa organizzata, poi la parte ancora più folla è stata che la sera stessa praticamente mi hanno parlato, mi hanno detto che il giorno dopo questa amica nostra sarebbe morta e il giorno dopo di sera praticamente questa persona è deceduta, diciamo questo è stato il risvolto ancora più... In che circostanze è deceduta? È deceduta di suicidio dentro casa, praticamente si è suicidata dentro casa, non si sa come, e praticamente è morta, ma io praticamente non la riconoscevo più perché sembrava come un'altra persona i giorni prima. La stavano pilotando col controllo mentale? Esatto, a me mi hanno detto... Il famiglierato teatrino da strada, quando le persone dicono, ah c'è il teatrino da strada, tutti mi vengono dietro, tutti che mi attaccano, in realtà quelle sono persone come noi che vengono pilotate con i sistemi a radiofrequenze, esatto, eseguono ordini che gli vengono impartiti all'interno della testa, addirittura a me una volta mi dicevano, vai dietro a quella ragazza, io ti stacco le frequenze, ho detto, ma che ci vado a fare dietro a questa ragazza? A me non me ne frega niente, me ne sono dato tutto da un'altra parte, me ne ho incominciato a torturare. Poi sono venuto a sapere che quella ragazza era una ragazza di uno che è mezzo bandito e dice che questo è molto geloso e molte volte l'ha fatta seguire la ragazza perché c'erano degli altri ragazzi quando lei andava in palestra che gli andavano a dare fastidio e siccome questo è un po' manesco ha litigato con parecchie persone loro volevano, io andavo dietro a questa ragazza magari lui arrivava all'improvviso e diceva te che cosa stai facendo dietro la mia ragazza e sarebbe successo un casino allora siccome io ho capito che la manipolazione che loro creano è proprio questa ho cercato di evitare totalmente ogni tipo d'affronto e poi mia nonna e mia zia sono morte 19 giorni di differenza una dall'altra e fatalità la cosa strana che al momento che a me mi stavano dando la possibilità di rimanere all'interno della casa popolare di poter praticamente sistemarmi in un certo senso anche economicamente perché mia nonna e mia zia perdevano due pensioni due accompagni quindi io mi sarei sistemato in un certo senso avrei avuto qualche solto nell'aiutare mia nonna e mia zia e avrei avuto anche una casa hanno fatto in modo e in maniera da far morire mia nonna e mia zia perché in 19 giorni di differenza non possono morire due persone nella stessa identica abitazione e fatalità è certo è troppo sospetto troppo sospetto ho denunciato questa cosa e questi invece di fare le indagini su la morte di mia nonna e di mia zia che sono state ammazzate con i satelli di spia con le armi e le regge dirette fanno che cosa fanno? mi torturano a me perché sono un testimone chiave la stessa cosa la stanno facendo con te ma la stanno facendo con altre centinaia e centinaia di persone che sono diventati testimoni di questi esperimenti militari sì sì ad esempio l'altra domenica l'altra domenica sono stato attaccato pesantemente e addirittura mi sono ritrovato a casa dentro al letto mi sono svegliato alle 4 di mattina e praticamente io non mi ricordavo nulla completamente nulla io mi ricordavo che stavo con un mio amico fuori da una birreria che stavo bevendo una birra e praticamente poi non mi ricordo assolutamente nulla mi sono svegliato alle 4 di mattina con voci in testa bruciori sul corpo sensazione di caldo e di freddo e poi praticamente ho ricontattato questo mio amico e mi ha detto che praticamente parlavo da solo urlavo dice lui non capiva diceva che praticamente era uscito completamente fuori di senno sembrava un'altra persona non eri te che parlavi ero loro che ti facevano parlare ero completamente pilotato infatti noi crediamo che questi anomali omicidi suicidi che stanno accadendo in Italia siano proprio pilotati attraverso questo sistema di controllo mentale perché se un genitore entra dentro casa non prende il cortello e estermina tutta la famiglia e ammazza le proprie figlie e poi si suicida esatto c'è qualcosa di strano quindi questi non sono attacchi al cittadino questo è attacco terroristico anche allo Stato italiano quindi lo Stato italiano si dovrebbe incominciare a ritirare sulle maniche e far muovere la vera difesa la vera intelligence il vero controspionaggio e controllare chi usa questi armamenti satellitari e queste tecnologie perché se no noi tra qualche anno entreremo in uno stato di dittatura neurale e tutti dovremmo eseguire gli ordini impartiti da questi radiotrasmettitori neurali satellitari esatto per fortuna che c'era questo mio amico che mi ha riportato a casa e praticamente mi sono risvegliato a casa perché mi diceva che praticamente camminavo in mezzo alla strada e dice urlavo mi ha detto sembravo come pilotato come radio pilotato me l'hanno fatta anche a me mi hanno fatto la stessa erentica cosa io stavo dentro un bar mi sono risvegliato in mezzo alla strada sulle strisce bianche e passavano gli autobus a destra e a sinistra ho detto ma che cavolo sto facendo qui e loro mi hanno detto se volevamo ammazzarti già eri morto mi hanno detto cioè nel senso che mi avrebbero fatto buttare in mezzo alla strada pensa che addirittura mi dicevano che io mi dovevo buttare di sotto a casa di mia nonna e io stavo al quattordicesimo piano infatti meno male che dopo ho messo le grate e non avuto più la preoccupazione che magari mi facevano svegliare mi feciano aprire la finestra e mi feciano buttare di sotto ho fatto un'altra intervista a una ragazza che lei doveva diventare addirittura una suora le voci in testa gli dicevano apri la finestra e buttati di sotto e la ragazza era talmente terrorizzata per questo che addirittura è andata sì in un altro appartamento a piano terra perché aveva paura che la potevano indurre a farla suicidare capito? è certo ma lo possono fare lo possono fare soprattutto se una persona è molto debole che viene presa in un periodo di debolezza di che magari sta da sola non ha contatti con sociali col mondo esterno è facilmente manipolabile e poi quello che mi ha destato ancora più sospetto è stata la sera prima che praticamente era uscito la mattina per prendere un caffè e una ragazza inizia a urlare frasi bestemmie urla contro rivolgendosi verso l'alto e io non capivo inizialmente con con chi ce l'aveva e tant'è che poi praticamente è arrivata l'ambulanza coi carabinieri che hanno fatto il TSO praticamente poi che cosa è successo la sera io sono uscito con delle mie amiche siamo andati a un locale poi siamo andati ci siamo spostati io stavo con due amiche mie e stavo andando a passare la serata da loro la notte e praticamente stavamo in una panineria praticamente c'erano delle altre ragazze dentro a questa panineria e a un certo punto una di queste ragazze si alza e praticamente si getta in mezzo alla strada con le macchine in corsa allora che io esco immediatamente fuori e la blocco e cerco cerco di capire la situazione perché stesse facendo questa cosa diciamo sembrava un suicidio a tutti gli effetti perché stava correndo contro le macchine stava andando correndo verso le macchine in corsa l'ho bloccata l'ho bloccata 3-4 volte praticamente non era in sé e poi è rientrata dentro al locale come se niente fosse e mi ha detto ma che io ho fatto questa cosa ha detto praticamente era completamente radiopilotata e poi la sera dopo a me guarda caso mi succede la stessa cosa ti volevano far vedere mi succede la stessa cosa bravo ti volevano far vedere che loro potevano pilotarti a loro piacimento le stesse cose che hanno fatto a me dal 2001 al 2003 che mi pilotavano come loro volevano addirittura a me mi hanno fatto vedere delle persone che venivano pilotate per strada e loro mi dicevano guarda guarda noi possiamo pilotare chi vogliamo a nostro piacimento infatti quando mi contattavano le vittime e mi dicevano c'è il teatino da strada ci sono stalker che mi seguono in continuazione io gli dicevo guardate che quelli non sono stalker quelle sono persone che vengono pilotate come voi con il controllo mentale e loro dicevano non è così non è così quelli vengono pagati per venirmi dietro mi hanno fatto vedere i filmati erano persone addirittura con gli occhi chiusi una camminava con gli occhi chiusi ho detto ma non lo vedi che c'è pure gli occhi chiusi perché quelli vengono pilotati proprio per crearci dei disturbi a noi e per far sì che noi poi andiamo a dire queste cose i carabinieri la polizia guardate le finanze diciamo guardate le persone ci vengono dietro e mi chiamano presi insomma per pazzi permanentemente ci vogliono proprio far perdere la credibilità e quella è la cosa che fanno una volta stavo all'interno di un locale a un certo punto un ragazzo si avvicina vicino a me e mi dice mamma mia che aggressività che c'è stasera sembrano tutti aggressivi e violenti io entro nel locale e incomincio a sentire delle frequenze fortissime sul corpo proprio della rabbia dell'odio lo sai quella sera che è successo scoppia una mega rissa dentro al locale che manco puoi capire io sono dovuto andare via di corsa dal locale perché ho detto qui stasera non so come va a finire non hanno ma è anche chiamato le forze dell'ordine non hanno chiamato nessuno e dice che la rissa è durata per 3-4 ore all'interno del locale che hanno dovuto chiudere tutto e dopo sono venuto a sapere che praticamente la mattina hanno chiamato le forze dell'ordine perché hanno trovato le macchine spaccate di fuori vetri rotti si tiravano le bottiglie e hanno fatto dei casini che non finivano più allora io gli ho spiegato a delle persone che stavano con me ho detto guardate che questi possono fare questo loro hanno detto va bene ma sarà stata una coincidenza fatalità tutta la settimana non succede niente vado io quel giorno e scopro la mega rissa tu dici qualcosa che non quadra insomma sono eventi rietati sono eventi pilotati questo si si ma poi a me ad esempio me l'hanno detto me l'hanno detto certe volte qui accadrà questo qui accadrà quest'altro parlandomi proprio in testa ad esempio anche ma avevo comprato una bicicletta nuova l'avevo messa sotto casa con con la catena e praticamente la sera mi hanno detto dice guarda è tanto inutile che hai comprato la catena perché la bicicletta ormai non c'è più e io dico ma come non c'è più scendo sotto casa e la bicicletta non c'era più sì ma sono loro che ti mandano pure tante volte le persone per farti questi rispetti a Pierpaolo Zaccai gli hanno rubato la macchina a me una volta mi hanno rubato il motorino un'altra volta mi hanno detto guarda tanto ti faremo sparire tutte le attrezzature che hai in macchina fatalità quella mattina io vado a prendere delle attrezzature ho detto vabbè le lascio in macchina che problema c'è tanto è chiusa all'interno di questo recinto dopo qualche ora scendo non c'era più niente dentro la macchina era sparito tutto è possibile che nessuno si era accorto di niente l'allarme non è partito nessuno che ha visto niente questi hanno spaccato le macchine addirittura hanno piegato i montanti dei cosi delle portiere e nessuno si è accorto di niente c'è qualcosa che non mi quadra c'è qualcosa che non va e pensa che la mattina dopo non avevo più una voce non si sentiva più una frequenza non avevo nessun disturbo non avevo niente addirittura come quando entri in chiesa come quando entri in chiesa e io dicevo ma perché non mi avete avvisato che mi stavano rubando le cose in macchina non parlava più nessuno tutti zitti perché erano i loro complici che erano venuti a spaccarmi la macchina per rubarmi le cose che avevo dentro così io perdevo praticamente il lavoro perdevo tutte le attrezzature e allora piano piano ho dovuto rimboccarmi le maniche e andare piano piano a cercare di raccimolare le cose che mi avevano rubato per poter andare avanti infatti adesso infatti adesso mi hanno rovinato veramente a livello lavorativo sì sì ma anche con me l'hanno fatto mi hanno fatto perdere posti di lavoro mi hanno creato problemi su posti di lavoro lo fanno proprio apposta perché non non è possibile ci stanno altri soggetti che vengono pilotati a commettere delle azioni e a farle ricadere poi su di te sì è così è così è tutto un programma di controllo e manipolazione come il programma MK Ultra come il programma Manchurian Candidate addirittura una ragazza straniera gli veniva il desiderio di mettere nel forno a microonde il suo figlio che era appena nato perché lei le voci gli dicevano in testa che facendo questo gesto avrebbe fatto praticamente del male al padre del bambino perché sembra che il padre del bambino aveva lasciato questa donna allora lei che ha fatto ha sentito le voci ha preso il bambino l'ha messo dentro al forno a microonde però non l'ha ucciso ha solo surriscaldato il corpo dall'interno che cosa è successo? che dopo un po' di tempo questo bambino ha incominciato a piangere avere un sacco di disturbi un sacco di problemi perché lei lo stava bruciando da dentro con le frequenze a microonde dopo sono andati all'ospedale quando il bambino ormai stava in fin di vita poi da quello che ho capito è morto e lei ha dichiarato che le voci gli dicevano di fare questo gesto cioè pure quell'altra persona la voce mi ha detto di strapparmi gli occhi all'interno della chiesa quella ha preso e si è strappato gli occhi quell'altro ragazzo di Firenze le voci gli dicevano buttati nel fiume e vai dall'altra parte e quello gli ha detto se mi riscaldi la mano destra mi butto se mi riscaldi la mano sinistra non mi butto e hanno surriscaldato la mano destra quella è presa e si è buttato quando è andato dall'altra parte del fiume meno male che non è morto è andato dall'altra parte del fiume è ritornato a casa la madre che ha detto ma perché sei tutto bagnato eh ma le voci mi hanno detto di buttarmi nel fiume e quelli i genitori si pensavano che lui aveva tentato un suicidio o addirittura a Roma quel padre di famiglia prende il figlio lo butta dal ponte vicino alla Porta Portese no a Porta Portese poi siamo venuti a sapere che la madre stava nelle case popolari stava in clinica psichiatrica lui aveva avuto problemi psichiatrici e va a prendere il ragazzino lo butta di sotto quello è un caso di controllo mentale multiplo che viene effettuato all'interno di un'abitazione noi abbiamo addirittura una nostra amica attaccano a lei con le armi all'energia diretta attaccano anche la madre nella stessa lentica abitazione sentono tutte e due le voci gli parlano in testa gli dicono parolacci gli dicono di tutto e di più però gli altri familiari non sentono niente solo loro due le sentono perché ovviamente sono sensibili a determinate frequenze a determinate radiazioni e interagiscono con queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale che questo è quello che poi a noi ci porta il danno maggiore il fatto di sentire in continuazione le voci in testa che ci fanno perdere la concentrazione e ci fanno perdere il ragionamento sì sì ma io nell'ultimo mese proprio ho avuto dei vuoti di memoria a breve a lungo termine incredibili proprio praticamente stavo riempendo una bacinella d'acqua vado di là e dico adesso la tolgo e praticamente ero rimasto due ore in stanza e poi mi sono girato e ho detto oddio ho la bacinella con l'acqua e praticamente era tutto allagato e questo mi è capitato per tre settimane di fila lo fanno lo fanno a me tante volte bloccano il ragionamento cognitivo il ragionamento cognitivo il gas è acceso ti fanno lasciare dentro casa ti fanno dimenticare le chiavi ti fanno dimenticare i portafogli i cellulari e quella mamma che si è dimenticata il bambino sotto al sole ha detto ma io ero sicura di averlo portato a scuola il bambino e invece lei è andata al lavoro ha lasciato il bambino in macchina e il bambino è morto bruciato perché ovviamente stava sotto al sole queste sono manipolazioni create per attestare questi armamenti di controllo mentale e poi magari vedere se le forze dell'ordino se le forze armate sono in grado di sgominare queste organizzazioni che fanno questi attacchi terroristici militari o questi attacchi di mafia militare contro lo Stato perché non è possibile che accadano degli avvenimenti e uno rimane veramente allibito e dice ma com'è possibile scusa ci sono queste tecnologie possono prevedere questi attentati questi stragi questi omicidi e nessuno fa niente perché lo Stato si vede che ci guadagna cioè non lo Stato quello onesto lo Stato quello parallelo quella sovra istituzionale che guadagna con appalti multimiliardali di vendita di tecnologie satellitari di tecnologie radar spaziali perché qui parliamo di miliardi e miliardi di euro l'anno di appalti di tecnologie per lo spionaggio della popolazione italiana che tanti dicono il vicino di casa certo ma poi non è il vicino di casa mi sto accorgendo sì mi sto accorgendo praticamente che c'è sempre più una violenza inaudita perché una settimana fa è stata uccisa una mia parente di 91 anni dentro casa e praticamente da un giovane ragazzo di 22 anni che lavorava stava bene non aveva problemi economici e non si capisce il motivo perché praticamente l'abbia uccisa brutalmente a schiaffi e pugni e lui e lui praticamente dice io non mi ricordo assolutamente nulla quando è stato arrestato ha detto di non ricordare assolutamente nulla purtroppo la manipolazione mentale questa a me mi creano pure dei stati ipnotici dei stati di blocco cerebrale per non farti ricordare quello che te praticamente fai perché loro ti inducono a fare determinate cose poi noi non dormiamo la notte perché ci svegliano in continuazione attraverso le voci alle 21 a me mi staccano alle 21 mi staccano i telefoni non riesco più a telefonare la stessa cosa che fanno a me mi staccano i telefoni e mi staccano addirittura internet per 10 minuti in quarto d'ora occhio e croce e dopo riparte tutto quanto perché noi veniamo monitorati da remoto e loro hanno paura che in quella mezz'ora che loro praticamente staccano che noi possiamo magari telefonare alle forze dell'ordine telefonare a qualcuno e dire guarda ma attaccano con queste armi con queste tecnologie allora loro non vogliono che accade questo perché chi deve rispondere deve rispondere ai centralini sono le agenzie deviate e devono controllare tutto quello che noi inviamo solo le agenzie deviate attraverso il controllo e lo spionaggio che noi subiamo tutti i giorni praticamente ti volevo dire un'altra cosa molto importante vuoi dare un consiglio alle vittime che ascolteranno la tua intervista testimonianza? sì di non lasciarsi manipolare assolutamente perché questi questi pazzi possono portare la gente all'esaurimento nervoso non non restate chiusi dentro casa non non chiudetevi in voi stessi e poi non non andate a dire cose che diciamo che non stanno né in cielo né in terra perché rischiate il TSO ecco questo questo volevo dire puoi dire ancora qualche altra cosa di importante di quello che si ad esempio ho dovuto ho dovuto cambiare ho dovuto fare una nuova scheda di cellulare perché la scheda che avevo praticamente la gente mi chiamava e mi diceva ma al telefono squilla dice ma perché non rispondi e io praticamente gli ho detto ma guarda il telefono è attivo ho cambiato due o tre volte il cellulare no non la scheda il cellulare poi ho provato anche a cambiare la scheda telefonica a rifarla di nuovo a rifarla nuova sempre con lo stesso numero e praticamente le chiamate non arrivavano da nessuna parte l'ho portato anche da dei tecnici che praticamente non capivano il problema e adesso con questo adesso praticamente ho fatto avevo fatto una nuova scheda di telefono e un mese fa conosco una ragazza ci scambiamo i numeri io prendo il suo telefono invio un messaggio al mio al mio cellulare e faccio una chiamata praticamente avevo il telefono io nella borsa vado a casa e dico adesso adesso aggiungo questa persona che ho conosciuto praticamente il telefono era acceso non c'era nessuna nessuna chiamata e nessun messaggio ricevuto questi sono loro che manipolano i nostri telefoni perché poi fanno credere che noi siamo diventati paranoici con il cosa che ci succede la nostra mente che ci fa credere che è questo queste sono tutte le manipolazioni che hanno fatto anche a me le stesse cose che hanno fatto a te le hanno fatte anche a me dal 2001 2002 2003 fino al 2007 mi attaccavano con le stesse identiche modalità che ti hanno attaccato a te quindi te sei una brava persona non ti preoccupare non sei un malato di mente sono loro che amplificano queste patologie nel nostro cervello per farci credere chissà che cosa siamo che patologie ci abbiamo ci buttano giù psicologicamente perché loro ci vogliono umiliare in continuazione noi invece siamo superiori perché noi rileviamo le alte tecnologie questi sistemi di spionaggio satellitare che vengono utilizzati per spiare oltre alle forze dell'ordine oltre alle forze armate ma anche la popolazione a livello nazionale io ti ringrazio per questa tua intervista di testimonianza grazie a te molto tecnica molto plausibile queste sono cose molto importanti tanto noi poi visto che tu sei di Roma avremo la possibilità di incontrarci certo poi in caso ne faremo anche delle altre interviste molto più tecniche oppure quando staremo nelle conferenze oppure quando faremo il programma incontro caffera di tv web potrai insomma parlare delle tue certo ho raccontato una parte ho raccontato una piccola parte diciamo di quello che che ho subito ecco sì poi magari racconterò più dettagliatamente diciamo tutta la storia sì ma la cosa essenziale che quelle cose che hai detto sono cose che vengono praticamente percepite da chi ascolterà questa intervista come una sorta di di controllo che ti hanno fatto una sorta di manipolazione degli abusi che hai subito ovviamente te senza fare niente senza essere neanche consapevole di essere pilotato con queste armi con queste tecnologie purtroppo le cavi umane i target individuals che entrano a far parte di questo mondo ultimamente stanno subendo queste torture questi esperimenti atroci e sembra che l'istituzione nazionale veda e non veda questi abusi che vengono effettuati perché si vede che qualche lobby industriale guadagna tantissimo con queste patologie indotte all'interno del cervello delle vittime io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista grazie grazie a te e voglio ricordare la mia email vittime del controllo neurale chiocciolagmè.com la mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker la mia seconda radio web Emiliano Babilonia Miss Claude il mio primo canale di youtube Angelicustodi MK Ultra Italia il secondo canale di youtube Emiliano Babilonia un saluto a tutti cari amici grazie a tutti per la mia un saluto a tutti per la mia un saluto a tutti per la mia